Due possibilità. Ora fai come dico io, o fai come dico io, claro? Grazie. Posso farla diversa? No, può bastare, grazie infinita. Sei licenziato. È Natale, Bill. Sì, li ho visti gli addobbi. È felice anno nuovo. Ti ho sentito suonare, ti volevo... Non è strano che continuiamo a incontrarci? Forse vuol dire qualcosa? Non penso. Sì, in effetti è. Ti puoi scrivere i ruoli da sola, scrivere cose interessanti come te, senza dover fare provini. Cosa pensi di fare? Apro un locale tutto mio. Sentiremo questo ogni volta? Credo di sì. Come puoi essere un rivoluzionario se sei così tradizionalista? Resti aggrappato al passato, ma il jazz parla di futuro. Forse io non sono brava. Sì che sei brava. Sono una di quelle che sognano da sempre di farlo. È questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. E pericolare. E pericolare. È questo il sogno. E pericolare. E pericolare. Grazie a tutti.